buongiorno a tutte e tutti mi chiamo silvia de francia sono ricercatrice in farmacologia al dipartimento di scienze cliniche e biologiche dell'università di torino partecipo all'edizione torinese di fame lab 2022 come organizzatrice e come parte della giuria ma perché oggi partecipare ad un talent show di divulgazione della scienza beh essenzialmente direi per due motivi il primo è perché per poterlo fare bisogna essere davvero molto maturi e mature e il secondo è per la forza bisogna essere maturi e mature per riuscire a sintetizzare in modo compiuto in soli tre minuti il proprio lavoro di ricerca e poi bisogna essere forti bisogna trovare la forza delle parole giuste per arrivare dritti al punto per entrare nel cuore del pubblico e della giuria per lasciare il segno allora vi aspetto l'11 maggio al cubo teatro dell'off topic in via giorgio pallavicino 35 a torino a presto ciao 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 ciao